Avellino avrà anche quest'anno il suo capodanno in piazza, se lo scorso anno il palcoscenico è stato Corso Vittorio Emanuele per il concerto di Gigi Finizio ed altri artisti, questa nuova location sarà il centro storico di Avellino. Ad allietare la notte di San Silvecio saranno gli Spaghetti Style che con la loro coinvolgente musica daranno il benvenuto al 2020. L'evento, voluto fortemente all'associazione Resta in Centro, avrà luogo a Piazza della Dogana, sempre più simbolo del centro storico avellinese. La cornice sarà suggestiva e seppur ci sarà freddo, come da previsioni, gli organizzatori fanno sapere che l'atmosfera sarà calda grazie agli Spaghetti Style e a tutta l'organizzazione messa in piedi per un capodanno in piazza memorabile. Nel comunicato dell'associazione, nel quale qualche giorno fa è stato ufficializzato il capodanno in piazza, sono stati espressi ringraziamenti per l'amministrazione nelle persone del sindaco Gianluca Festa, dell'assessore agli eventi Stefano Luongo e dell'assessore al commercio e alle attività produttive Laura Nargi per aver condiviso l'obiettivo dell'iniziativa nel cuore del centro storico cittadino. Il concerto di fine anno e la cornice di piazza Mendola consente, come dicevamo, alla zona antica e il capoluogo una ribalta importante, come sostengono anche gli organizzatori, nella prospettiva di un'auspicabile fase di rilancio. Il concerto, nell'ultimo giorno dell'anno, si affianca ai colori del Natale Avelinese e alle luci del castello, offrendo ai giovani e alla città un luogo di aggregazione dove festeggiare l'arrivo del 2020.